8 classi dell'Istituto Benedetto Varchi a Palazzo del Pegaso per incontrare la Commissione Europa a illustrare il loro progetto nell'ambito del bando Erasmus Plus. La Commissione Sviluppo Economico e Rurale ha visitato la sede di Enteterre Regionali ad Alberese. Presentata l'edizione 2023 del Murlen Live Fest, la rassegna che si svolge nel comune senese dal 1 al 3 giugno. La Commissione Europa incontra 84 studenti di Montevarchi. L'Europa come grande opportunità. È il messaggio forte arrivato alla fine dell'incontro che si è tenuto nell'auditorium del Consiglio regionale tra 84 studenti delle classi terze dell'Istituto di istruzione superiore Benedetto Varchi di Montevarchi in provincia di Arezzo, vincitori di un progetto nell'ambito del bando Erasmus Plus e la Commissione Europa preseduta da Francesco Gazzetti. Otto classi terze del Varchi si sono infatti aggiudicate il finanziamento da 30.000 euro offerto dalle azioni Jean Monnet per stimolare l'insegnamento e la ricerca sull'Unione Europea. Il progetto a cui gli studenti hanno dato il nome di Me & Eu li accompagnerà nell'arco del triennio fino alla classe quinta nel 2024-2025. Al termine di questo primo anno professori ragazzi coinvolti hanno chiesto un incontro con la Commissione Europa del Consiglio regionale per illustrare il loro lavoro. I primi 84 studenti sono intervenuti in auditorium, mentre l'incontro con le altre quattro classi è previsto per lunedì 5 giugno. E' con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. Quindi davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto e credo che questo sia un elemento positivo da appunto replicare e far crescere ancora di più. Hanno partecipato all'incontro diversi membri della Commissione Europa, tra cui la Vicepresidente Anna Paris, Gabriele Veneri, Fausto Merlotti, Massimiliano Pescini, la Presidente della Commissione Cultura e Istruzione Cristina Giacchi e il consigliere Vincenzo Ceccarelli. In questa prima fase del progetto, gli studenti, sostenuti dalla cooperativa sociale Campobase, che ha messo a loro disposizione un esperto di metodologia esperienziale, si sono focalizzati su quello che l'Europa può offrire ai giovani in tema di studio e lavoro, producendo video e presentazioni focalizzati su quattro ambiti, Interrail, Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà e Università all'estero. Credo che una politica più vicina alle esigenze dei cittadini, più consapevole di che cosa vuol dire abitare le istituzioni scolastiche anche da studenti, oggi possa essere più utile anche alle decisioni pubbliche e agli indirizzi politici che noi dobbiamo determinare ogni giorno. Ed è stato molto bello raccogliere anche le loro suggestioni, come dare loro una dimensione della politica che forse non conoscono, non immaginano e che può far venire voglia anche a loro di condividere l'impegno nelle istituzioni. Noi come Commissione siamo andati a Bruxelles, abbiamo capito tanto di più e diamo sicuramente un senso maggiore al ruolo che svolgiamo all'interno della Commissione, quindi il lavoro che stanno facendo i nostri giovani e il supporto che forse potranno anche darci con questo percorso di studi sarà per noi fondamentale, ecco perché oggi siamo ad ascoltare il lavoro che stanno svolgendo. Questa è la generazione dell'Erasmus, la generazione dei ragazzi che hanno bisogno di dimensioni ampie, quindi sentirsi europei, ricercare un rapporto per capire quali sono le opportunità che l'Europa offre, ma anche come si può essere dei giovani cittadini europei del futuro credo che sia molto importante, sia molto in linea con il lavoro che sta facendo la Commissione Europa che abbiamo fortemente voluto nell'ambito di questa legislatura. Il progetto viene proposto nell'ultimo triennio della scuola e si articola in tre fasi. Nella prima fase i ragazzi si sono focalizzati su che cosa l'Europa propone ai giovani, nel secondo anno invece si concentreranno sulle istituzioni europee e sul loro funzionamento. L'ultimo anno, quando i ragazzi ormai sono più grandi e si avvicinano anche all'esame di Stato, che è chiamato anche esame di maturità, ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa, consapevoli del fatto che non ci sono solo diritti ma ci sono anche doveri. L'incontro si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione al progetto agli alunni delle classi del Benedetto Varchi presenti la terza A, terza B, terza C del liceo scientifico ordinario e la terza B del liceo scientifico indirizzo delle scienze applicate. La Commissione Sviluppo Economico ad Alberese La Commissione Regionale Sviluppo Economico e Rurale, guidata dalla Presidente all'area Bugetta, ha effettuato una visita alla sede di Enteterre Regionali ad Alberese, in provincia di Grosseto. È stato il direttore dell'ente Giovanni Sordi a condurre la delegazione regionale a vedere l'allevamento brado tradizionale a Montabutter, aspetto peculiare della tenuta di Alberese e le razze Bovina Maremmane e Dequina Maremmane, entrambe autoctone della Toscana, tuttavia tutelate nell'ambito delle politiche di conservazione della agro-biodiversità e fortemente adattate al territorio. Un luogo affascinante fatto di tradizioni profonde della Toscana, ha detto la Presidente Bugetti, che diventa un microcosmo fatto di agricoltura, di sapienza e di antichi mestieri. È un luogo dove si possono scoprire le radici della Toscana. È un luogo molto affascinante perché è un luogo fatto di storia, quindi le nostre tradizioni profonde della Toscana diventa un luogo unico, un microcosmo che è fatto di agricoltura, è fatto di sapienza, è fatto di antichi mestieri, quindi è un luogo dove si può scoprire davvero le radici della Toscana. Non credo sia solo un patrimonio della Regione, ma credo sia un patrimonio di tutta la nazione, di tutta l'Italia e perché no anche di tutto il mondo, perché i numeri dei turisti che arrivano da tutto il mondo lo dimostrano. Quindi per noi, per la Regione Toscana, per la Commissione è stata sicuramente un'occasione per toccare con mano quello che viene realizzato faticosamente qui, con le razze autoctene, quindi con il germoplasma, con tutto quello che viene prodotto. Quindi dalla parte al consumatore, ma soprattutto con quello che è il mestiere faticoso tutti i giorni di mandare avanti un ente che ha mantenuto anche una sua storicità, ha mantenuto una caratteristica molto semplice dove si può respirare davvero quello che è stato un tempo, ma coniugato anche con le esigenze di oggi. Quindi un applauso a tutti coloro che ci lavorano, un ringraziamento per la Commissione per la Regione Toscana e ovviamente una soddisfazione venire a vedere quello che cerchiamo di monitorare e di supportare. Anche per la consigliera Anna Pari si tratta di una realtà gioiello, trenata dalla biodiversità dove la razza di un tempo è adeguata alle nuove tecniche. Abbiamo scoperto un gioiello, uno dei tanti gioielli che in realtà ha la Regione Toscana. Io faccio parte della Commissione Sviluppo Economico e Rurale e quindi di questa realtà dell'azienda agricola di Alberese leggevo i numeri, i numeri dei bilanci preventivi, consultivi, quindi c'era l'interesse a vedere e sì, un gioiello perché poi qui la biodiversità sarà veramente trenante l'aspetto di questa zootecnia come un tempo, quindi sì, la razza di un tempo però tutta la tutela di adeguarla alle nuove tecniche. Poi un posto che consiglio da un punto di vista turistico, io penso che dovrebbe anche essere potenziato con le scuole per conoscere la Regione, per conoscere questa zona, io penso ai ragazzi che vivono a Firenze, a Pisa, in una Lucca, ci sarebbe tanto da scoprire e ripeto un ulteriore gioiello della Regione Toscana, ente Regione Toscana ovviamente. Non si può che essere orgogliosi di un territorio quale quello dell'Elte Parco, di Alberese, insomma c'è tutto, dagli itinerari, la natura, ma c'è anche una tradizione che tra l'altro come ci dicevano appunto questa mattina è una tradizione di un'agricoltura sostenibile che praticamente viene ripresa e forse diciamo che meno male che noi abbiamo mantenuto certe tradizioni, i butteri, le razze, gli animali allo stato brado, abbiamo il mare, le dune, quindi voglio dire è veramente un territorio estremamente ricco e penso che le persone che vengono qui non possono che innamorarsi della Maremma. Enteterre deriva dalla trasformazione dell'azienda regionale di Alberese e raggruppa le aziende agricole di proprietà della Regione Toscana, tenuta di Alberese, azienda sperimentale di Cesex, centro di collaudo di Arsia, la tenuta di Su Vignano e altre funzioni pubbliche quali la gestione dei 110.000 ettri del PAFR, la Banca della Terra ai 100.000 orti e il coordinamento del sistema regionale di tutela dell'agrobiodiversità con gestione diretta della Banca del Germoplasma Vegetale ed Animale. Fra le aziende agricole la più estesa è la tenuta di Alberese, una delle più grandi aziende biologiche d'Europa con i suoi 3.900 ettari e con oltre 700 ettari disseminativi ad indirizzo cerealicolo foraggero. È per noi motivo di orgoglio presentare tutte le nostre attività, ci sentiamo anche la responsabilità del mantenimento di questo territorio ma soprattutto è un piacere per noi mostrare quanto lavoro c'è dietro alla tutela dell'agrobiodiversità, delle razze autotone, quanto patrimonio di conoscenze venga espresso anche dal lavoro dei vutteri e anche raccontare queste razze, il loro grado di adattamento al territorio, le loro peculiarità, la bellezza del cavallo mare in mano, l'uso che se ne può fare, i possibili sviluppi di utilizzo, questo ci riempie d'orgoglio perché ci permette non di raccontarsela fra noi ma raccontarla a chi poi per noi deciderà le politiche dell'agricoltura toscana per il futuro. Il direttore dell'ente terre regionali ha ricordato anche l'attività divulgativa e formativa per le principali scuole agrarie e università nazionali dell'ente. È sempre importante portare chi ci controlla a vedere quello che stiamo facendo, noi siamo orgogliosi di lavorare per questo ente, siamo orgogliosi di Alberese perché rappresenta la storia dell'agricoltura italiana addirittura se non anche di più, stiamo gestendo l'azienda in maniera molto omogenea e soprattutto stiamo conservando e innovando insieme quindi la tradizione della vacca maremmana, del buttero insieme alla grande storia di questo posto che è splendido. Torna il Murlo in Live Fest Una tre giorni di appuntamenti gastronomici e musicali, dal primo al 3 giugno torna il Festival di Murlo. L'evento Murlo in Live Fest, nato nel 2014 per volontà dell'associazione sportiva dilettantistica Vescovado, è stato presentato a Palazzo del Pegaso, alla presenza del presidente della Commissione Cultura Cristina Giacchi, della consigliera regionale Elena Rosignoli e del vice sindaco di Murlo Stefano Abellini. Murlo è un comune a sud di Siena, perché non è una cosa scontata, di 114 km2, con una forte prevalenza di natura incontaminata e una cultura e una civiltà che ci viene tramandata ormai nella storia dagli etruschi che ci praticamente vigilano su di noi e ci accompagnano nella storia. Vi invito a venire e partecipare a questo evento perché c'è un'ottima cucina, della buona musica e magari consiglio, invece visto che la festa inizia nel pomeriggio, consiglio a chi vuole venire a Murlo, di presentarsi magari la mattina o il primo pomeriggio, in modo da poter collegare a questa festa anche un'eventuale escursione nei tanti sentieri che abbiamo attrezzati di alto valore, compreso quello nella riserva naturale del Basso Merse e direi per la visita del Borgo, del Borgo di Murlo e del suo museo d'Antiquarium di Poggio Civitate che ha al suo interno i reperti ritrovati a Murlo. Ecco, diciamo, abbiamo questa unicità del nostro museo che forse non hanno in molti. È un museo che dalla finestra vede il punto di scavo, quindi con 500 metri in linea d'aria siamo al punto di scavo dei ritrovamenti. È un museo che parla di Etruschi a differenza di molti altri in termini di vita vissuta, quotidiana e non di ritrovamenti, di tumuli e quindi di arte funeraria e quindi niente, può essere l'occasione per passare una giornata intera nel nostro territorio. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti con musica e buon cibo per un evento costruito anche grazie all'impegno di molti giovani. Lo schema che ci siamo dati, diciamo, è quello che prevede un fine settimana, in realtà partendo appunto dal giovedì sera, agli impianti sportivi di Vescovato. La location è sempre quella, una festa paesana indirizzata essenzialmente ai più giovani, ma in realtà poi partecipata a tutte le generazioni e dalle famiglie. Musica dal vivo, buon cibo nel segno della tradizione dei prodotti nostrali, locali e soprattutto un gruppo coeso di ragazzi che ha realizzato la sua festa dopo anni di ricerca attenta e grazie alla collaborazione poi delle altre associazioni paesane, al supporto dell'amministrazione comunale e di altri soggetti e attività che ogni anno ci sostengono, ci sponsorizzano e quant'altro.